Buonasera a tutti ragazzi, volevo solo fare questo breve video per commentare la partita di oggi che impegni lavorativi mi hanno precluso di vedere per intero addirittura e di partecipare a tutti in conferenza nel post ci tenevo comunque a postare in formato video il mio commento perché insomma mi piace sempre esprimere il mio parere soprattutto nei momenti negativi dove ci sono obiettivamente più spunti rispetto a quando le cose vanno bene ora fermo restando che nel calcio lo sappiamo che è tutto legato ai risultati oltremodo oserei dire perché insomma pur avendo visto male oggi la partita quindi non in maniera attenta e neanche per intero penso di poter dire senza dimore di essere smentito che la sconfitta è comunque figlia di un mezzo episodio di un infortunio tattico difensivo di Falcone e Gallo in un primo tempo sostanzialmente equilibrato dove per carità il Lecce non ha fatto chissà che ma neanche la Fiorentina poi nel secondo tempo c'è stata quella fiammata iniziale di Francesco e poi nel finale quel colpo di testa di Sise sicuramente il Lecce voglio dire non lo scopro io e i numeri la dicono lunga quattro sconflitte consecutive soprattutto senza mai andare in gol evidenziano un momento di appannamento psicofisico della squadra che tra parentesi mi sento di poter dire che ci può stare ricordiamo che senza voler insomma giustificare nessuno che il Milan a gennaio credo adesso vado un po' a memoria credo che abbia fatto o due o tre punti in otto partite subendo una quantità di reti enormi un punto di questi l'ha fatto con il Lecce dove ricorderete nel primo tempo se avessimo chiuso 5 a 0 non ci sarebbe stato nulla a dire ma questa è un'altra storia comunque in generale il calcio è frutto di episodi voglio dire giusto per citare l'ultima partita che abbiamo vinto a Bergamo contro l'Atalanta abbiamo tirato in porta due volte abbiamo fatto due gol abbiamo vinto la partita sicuramente era un Lecce diverso era molto più determinato aveva un piglio probabilmente diverso ed era anche più ordinato difensivamente però fondamentalmente stiamo parlando di episodi che da un lato sono stati favorevoli e in questo momento invece ti sono sfavorevoli perché è un momento come se ne vedono tanti nel calcio per tutte le squadre dove alla prima occasione subisci gol e magari anche quelle misere e tre occasioni che riesci a creare non te ne va bene una sicuramente abbiamo perso un po' di verve complice probabilmente anche la tranquillità in classifica però bisogna anche vedere la realtà delle cose cioè io ho letto commenti onestamente allucinanti non me ne vogliate ma ho letto in maniera veloce sia sul nostro sito che in giro da altre parti commenti veramente allucinanti come se fossimo ultimi in classifica contro l'area tecnica contro il tecnico eccetera eccetera ragazzi ragazzi cioè adesso io non voglio prendere le difese di nessuno la società voglio dire l'ha detto a più riprese gli addetti ai lavori l'hanno detto a più riprese questa è una squadra che è la più giovane del campionato quella col monte in gaggi più basso quella che ha speso di meno nel mercato io correggetemi se sbaglio da io ho quasi 40 anni seguo il Lecce da quando avevo 5 anni e nei 17 compreso questo campionati di serie A che abbiamo giocato non credo che il Lecce a marzo abbia mai avuto 8 punti di vantaggio sulla terz'ultima ha torto o ha ragione qualcuno mi potrà dire sì vabbè ma sono scarse le altre intanto i numeri sono questi non solo ma questi 8 punti di vantaggio 8, 9, 10 che siano stati nell'arco del campionato tu ce li hai praticamente da da quando hai vinto all'andata contro la Sampdoria da novembre e io ricordo che in quel caso la maggior parte dei tifosi sia che li incontrassi al bar sia che ti confrontassi sui social praticamente si sentivano salvi ed era novembre ora noi oggi al 19 marzo abbiamo gli stessi punti di vantaggio sulla terz'ultima allora all'epoca la terz'ultima era la stessa Sampdoria quest'oggi è la terz'ultima e il Verona ma i punti di stacco sono gli stessi contro il Verona che a sua volta ha perso con la penultima di fatto abbassando diciamo in questa settimana la quota salvezza e però siamo tutti molto preoccupati ma il bicchiere va visto sempre mezzo pieno a mio modo di vedere cioè qualcuno mi può dire siamo in caduta libera quattro partite abbiamo perso non abbiamo segnato io però vi voglio offrire un altro spunto cioè che noi in queste quattro sconfitte consecutive che abbiamo fatto abbiamo perso soltanto due punti di vantaggio sulla terz'ultima nonostante la terz'ultima nelle ultime due partite abbia giocato in casa con il Monza e a Genova con la Sampdoria che era penultima in classifica che è penultima in classifica e la prossima il Verona per intenderci va a giocare a Torino con la Juventus mentre noi andremo ad Empoli dopo la sosta quindi fermo restando che non le perderemo tutte perché non le perderemo tutte cioè noi in un momento in cui ci siamo giocati quattro bonus comunque la la situazione di classifica è rimasta pressoché identica con con quattro giornate che sono passate quindi adesso ne restano undici otto punti di vantaggio sulla terza ultima con undici partite restanti è un margine che io mi sento di dire incolmabile signori è incolmabile fermo restando che il Lecce è ancora davanti oltre a la partita con l'Empoli a quella con il Napoli a quella con l'Udinese a quelle fuori con Juventus e Milan ha in casa Sampdoria Verona e Spezia nell'ordine nonché l'ultima di campionato l'ultimissima in casa col Bologna che voglio dire a buon intendito a poche parole quindi onestamente è una situazione assolutamente sotto controllo cioè nel senso ci sta a rimanere male per le sconfitte però non bisogna perdere la bussola cioè non bisogna perdere di vista l'obiettivo che è rimasto assolutamente alla portata nonostante queste quattro battute d'arresto pesanti e soprattutto in una situazione che va vista ad ampio spettro contestualmente alla primavera che oggi ha vinto di nuovo 3-1 che è prima in classifica considerando che venderemo nella prossima estate quei 2-3 elementi che consentiranno alla prima squadra di fare ricche plus valenze unite ai soldi che matureremo con la salvezza e finalmente l'anno prossimo forse Corvino ci potrà regalare il bomber che tutti decantano siccome qualcuno mi ha anche accusato di non dire che Corvino ha sbagliato allora io non dico che non ci manchi il bomber cioè secondo me anche manca il bomber io tra l'altro voglio dire pur pur essendo un amatore comunque ho sempre fatto l'attaccante in vita mia il classico numero 9 di un tempo quindi io adoro il numero 9 inteso come centravanti d'area e questa squadra è ovvio che manca da quel punto di vista ma se noi avessimo un bomber d'area un calciatore da doppia cifra numeri alla mano non saremmo non lotteremmo per la salvezza saremmo al posto del Bologna o forse del Torino cioè se noi leviamo le prime lasciamo stare il Napoli che è di un altro pianeta ma se noi togliamo le prime 4-5 del campionato le big cioè i numeri sommati dei parchi attaccanti di tutte le squadre di Serie A non si discostano molto dai nostri cioè per dire giusto per fare un esempio di una squadra che ha pari punti con noi la Salernitana che ha speso comunque 10 volte quello che abbiamo speso noi sul mercato che ha Piontek che è ex Milan ex Fiorentina cioè Piontek c'è credo che abbia fatto 3 gol se non vado errato o 3 o 4 credo 3 quindi 1 in meno di Cissè e soprattutto non segna penso da 4 mesi cioè di che stiamo parlando voglio dire scopriamo l'acqua calda se diciamo che il Lecce non ha il bomber ma se non avendo il bomber abbiamo 27 punti capite bene che la realtà delle cose è questa perché noi siamo una neopromossa che ha fatto un mercato con 4 lire e ci sta che non abbiamo il bomber perché non credo che sia facile al netto di Corvino che ha 74 anni suonati resta secondo me uno il più grande talent scout presente ad oggi in Italia cioè comunque non credo che sia facile trovare un bomber in Slovenia o in Serbia o in Austria o in Brasile con 200 mila euro ha puntato su Cizè e su Colombo non si sono rivelati dei campioni ma ci sta ci può stare cioè in questo momento non stai pagando neanche quello stai pagando probabilmente un momento di appannamento di Strefezze e di Francesco che sono comunque i leader qualitativi però ripeto oggi Cizè la prende male anziché prenderla di testa la prende di nuca e finisce in porta abbiamo fatto uno a uno e i giudizi cambiano quindi ci vuole equilibrio io non giustifico nessuno non giustifico Baroni non giustifico i calciatori non giustifico niente perché a me non piace perdere come a nessuno però mai come quest'anno è importante guardare sì al singolo risultato ma è importante guardare il risultato ad ampio spettro cioè alla lunga e ripeto il Lecce ad oggi è ampiamente salvo pur avendo perso quattro partite consecutive non è mai stato neanche per una sola giornata nelle ultime tre della classifica pur avendo fatto il mercato con quattro spicci tra virgolette rispetto alle altre squadre ha un settore giovanile in in ascesa assoluta ci sono comunque a detta del club i presupposti per costruire un centro sportivo per un'ulteriore ristrutturazione dello stadio eccetera eccetera quindi io sinceramente il disfattismo per quattro partite perse non lo capisco non lo capisco e non capisco il nervosismo e l'accanimento contro Baroni solo perché dice abbiamo fatto la prestazione ma ragazzi c'è tolto qualche sfogo che ogni tanto qualcuno fa come quello che ha fatto Conte ieri o Morigno di tanto in tanto che fanno i protagonisti per il resto gli allenatori fanno sempre queste dichiarazioni ma per tutelare se stessi e la squadra che cosa dovrebbero dire che cosa dovrebbe dire Baroni io la squadra la vedo ma si se non segna neanche con le mani o Colombo è indolente che cosa dovrebbe dire dice quello che che un tesserato deve dire in un momento difficile comunque ripeto nessun per me nessun dramma adesso benedetta sosta così come altre volte c'ha la sosta ci ha fatto male questa volta ci farà bene e sapremo tranquillamente ripartire anche anche da un pareggio ad Empoli che non non è male contro una squadra che sta attraversando grossomodo un momento simile al nostro tanto nel prossimo turno il Verona va a Torino con la Juve la Sampdoria va a Roma eccetera eccetera niente ragazzi ci tenevo questo è il mio punto di vista che non non è buonismo ma è analisi della realtà fermo restando che nessuno è perfetto noi non siamo perfetti ma l'importante è solo raggiungere l'obiettivo e lo raggiungeremo senza problemi ciao alla prossima grazie a tutti